Ciao Hai l'autorizzazione? Per che cosa? Non ci può fare In che senso? Ma mi sto riprendendo solo me stesso Succede che praticamente ci hanno fermati la polizia E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Dopo che sul canale Pirlas V Io assieme ai miei 8 fratelli siamo andati al Burger King a ordinare tutto il menù del Burger King Abbiamo speso la bellezza di 275 euro Gabri me lo confermi? Confermo, confermo Sicuramente ragazzi per far sì che si realizzi tutto ciò Avrò bisogno del vostro sostegno perché sarà il video più costoso sul canale Perché non siamo al Burger King, non siamo al McDonald's ma siamo al KFC E ragazzi i prezzi del KFC sono maggiormente superiori a tutte le altre concorrenti Quindi ragazzi iniziate a lasciare un bel pollicione Lasciate un commento qua sotto Ciao Hai l'autorizzazione? Per che cosa? Non ci può fare l'ultimo In che senso? Ma mi sto riprendendo solo me stesso Per fare il video qua dentro? No ma un conto si riprende Io ho Però questo è un'intervista No, 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 no Non le persone Se vuoi mangiare al KFC Succede che praticamente ci hanno fermati la polizia Perché dicono che se spendiamo così tanto oggi è un casino Dopo hai capito com'è Sì ma come fanno loro a sapere che tu sei un'intervista tanto? Eh ma infatti questa cosa è curiosa Sicuramente la voce sarà girata Ed eccoli qua i miei otto fratelli Tutti carichi per mangiare il KFC Qui la festa signori Ed è qui che io oggi piangerò perché si piangerò 50 euro di banco 50 euro dove? Magari se è Michael McDonald qua Domanda Ma diamo solo pollo? No 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 Questa sera abbiamo un ospite speciale Un ospite speciale Ma chi è l'ospite speciale? Eh lo vediamo dopo Ok Ma diciamo che il KFC richiede un accompagnamento Un bel accompagnamento E che tipo di accompagnamento? Un accompagnamento che accompagna Capito? Qualsione di voi avrà già capito di cosa stiamo parlando Ma prima signori andiamo nel nostro KFC di fiducia Qui al Granreno E andiamo a scoprire che tipo di menù ha KFC A Granreno per una grande mangiata Allora ragazzi la situazione è questa Noi siamo qua davanti allo schermo Davanti al display no E giustamente mi consigliamo di ordinare un bucket che racchiude bene o male Nooo Cioè quindi io dovrei ordinare bucket per bucket Bucket per bucket No no Bucket per bucket Ti spiego Ogni pollo è diverso dall'altro pollo Eh sì Quindi tu non puoi prendere uno solo per tutto questo Perché ogni pollo è diverso Questo è Giancarlo Questo è Marino Questo è Hai capito bene? Va bene ho già capito Mi toccherà ordinare tutto 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 Ok ragazzi siamo pronti a fare questo magnifico grandissimo ordine Sono felicissimo Però non vedevo l'ore di farlo Guardo io Allora Un bucket cop Un colonne's burger Un copo originalmente Box mila all star Box mila colone's burger E un mix box Un mix box Un patatino sì Patatine La 60 Eeeh Amore metti patate Metti patate Eeeh Metti patate I vostri polli dove l'avete allevati? Dove l'avete allevati? Dove l'avete presi? Negli allevamenti Negli allevamenti ma in Africa e in Asia dove l'avete presi i polli? In Italia Ah quindi sono polli italiani? Quindi hanno l'accesinanza giusto? Bucket tender crispy hot wings Bucket hot wings Bucket tender Più tender Allora bucket cob O L più tender O L più tender Tender crispy Hot wings Cob original Recip Leggi bene Leggi bene Recip E mix box Benissimo La sezione bollo l'abbiamo finita Adesso andiamo ai panini E per i panini Oggi abbiamo un ospite speciale Che non fa parte della famiglia Ma fa parte della famiglia Lui è Iubelbux Mi vergogno Mi vergogno Allora double crunch Il colon bluger Lo zinger Il chicken gritter E poi sono finiti Grazie eh Sei davvero bella Ci devo provare E che tocca? E sposata E già sposata Sposata? Quanti ne hai? 20 Box 1000 Eccolo La web star del momento Peter Proprio lui Sei pronto Peter a ordinare? Ordina Ordina bene Un junior Il microfono Il microfono Varei uno junior boxman Poi farei una box miller Poi una box miller All stars Box miller Colonel's burger Colonel's burger Box miller Colonel's burger E dopo I box miller Passiamo i snack E contorni Ma per i snack E contorni Abbiamo un ospite Che non è speciale È di più Voi lo conoscete bene Maia numero 9 Dell'Inter Ex E numero 9 Dell'Inter La caca La caca Eee 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 Patata Fiff Tender Crispy Snackball Fat Wings Pop one Chicken Patatine fritte Crunchy Pure Snackball Tender Crispy Pannocchia Eee Pannocchia Ma adesso Chiamiamo uno Che la scorsa volta Ha dovuto spendere Di tasca sua E sganzare fuori 275 euro Per ordinare Al Burger King Lui È il mitico Pierino 172 euro Al Mc 285 Al Burger King E oggi siamo qui Al KFC Prego Acqua La birra Mi raccomando Heineken E un caffè espresso Per digerire Grazie Perché qui c'è il refill Ragazzi A differenza degli altri fast food Diciamolo Dessert La roba va assaggiata Michael Freeman Andiamo Sunday fior di latte Un Sunday caramello Sunday fragola Un affogato al caffè Un creme ball al caramello Un Sunday al cioccolato Un creme ball al cioccolato E ancora un fior di latte C'è un'insalata C'è una dieta Eee Male Ragazzi A grande sorpresa Non hanno l'insalata E quindi Meglio per me Si risparmia Volete delle salse? Tutte le salse che avete Quanto? Duecento e tantotto e settanta 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 Dai oh Ma non male Dai Ma non male Striscia Striscia Immaginate tipo non va la carta Perché non funziona Ok Transizione eseguita signore Bello Sarà controllare Che ci sia Tutto Ragazzi Dopo circa un 15-20 minuti di attesa Ci siamo La nostra roba è pronta Questo è tutto il menù completo Del KFC E verificheremo Se è tutto quanto La cosa bella di questo KFC È che ha il free refill Quindi Con questo Magnifico pulsante Puoi decidere Tutto quello che vuoi Ragazzi Un ringraziamento speciale Le nostre commesse Che ci hanno servito Oggi Mamma mia Ragazzi Che non è scontato Essere ogni giorno qua Stare vicino ai fornelli Lavorare Servire per noi Un ringraziamento speciale Veramente A tutti i dipendenti Allora ragazzi Ci siamo È il momento Della verità Dobbiamo fare il check Di tutto Devono esserci Tutte le cose Che abbiamo ordinato Se manca anche solo qualcosa Manderemo i ragazzini A lamentarsi Ok E se non ci darà la roba Manderemo Isaac Ok E se non accetterà neanche Isaac Andrò io Allora Sunday Fjord Ecco KB Caramello Questo qua Sunday Caramel Questo Sunday La Fragola Questo qua Affogato al caffè Questo qua Sunday Cioccolato KB Cioccolato Cono Caffè Espresso A posto Dolci ci sono tutti Ok Ragazzi passiamo ai box Box Meal Box Meal Junior Questo qua Menù Tenders 4MD Questo qua Questo qua Questo qua Eccolo qua Colonels Burger Eccolo Colonels BM Colonel Medio Questo BMDK Medio Questo qua Abbiamo un mix box Eccolo BKT336 Eccolo Questo qua BKT10T Crispy Eccolo Questo qua Tendersack Eccolo Popcorn Eccolo Panino Double Crunch Zinger Burger Ok ce l'abbiamo Bene Grilled Chicken Eccolo Fatapuff Eccolo Un Tender Crispy Tender Crispy Qui E due Hot Wings Due Hot Wings 3000 Hot Wings Allora Patatine Salsa ketchup Ketchup Maionese Smokey Salsa al curry Salsa Salpiccante Peperoncino Salsa Fresh Pepper Salsa Barbecue Pannocchia Pannocchia Bibite Le bibite Eccolo lì Le bibite le abbiamo tutte Allora ragazzi miei vi dichiaro Che abbiamo qualsiasi cosa Diamo il via A questa mangiata Fermi tutti ragazzi Fermi Fermi Ma è una cosa importante È arrivato il momento di svelare l'ospite speciale di questa abbuffata Ovvero il riso Dov'è il riso signori Facciamo entrare il riso Il riso è sacro nella nostra famiglia È colui che ci porta tutti i doni Uno E quattro E cinque Il riso con il po ragazzi Detto Fatto E adesso che ci siamo Diamo il via alle danze A posto Vai mangio gratis vai È una bella guerra questa Ma noi la vinceremo E quindi ragazzuoli Dopo aver svuotato tutto il KFC E svuotato anche i nostri magnifici portafogli E a maggior ragione che il mio portafoglio ormai è vuoto C'è bisogno di supporto Quindi mi raccomando ragazzi Lasciate un bellissimo like Lasciate un commento qua sotto Fatemi sapere Di che cosa sono i pensati di questo magnitico video Mi raccomando Seguite tutti noi I nostri profili social Ragazzi questo magnitico video si conclude qua E noi ci vediamo Nel prossimo video Bella Ragazzi Ascoltami Ascoltami Abbiamo in mente di fare delle richieste surde con i miei fratelli Iscrivetevi qua sotto che tipo di richieste vorreste vedere Forse voi si ritorneremo in questo centro commerciale E faremo delle richieste surde al centro commerciale Ci sarà divertirsi Ciao Apostol Vai mangio gratis Vai Grazie a tutti